buongiorno a tutti allora proseguiamo con le schedine e bollettine del gigione con il campionato tedesco che devo dire già stasera o meglio ieri sera perché ora che vedrete questo video sarà già sabato il gol piove è già uscito quindi già la prima giornata regala gioie cosa diversa per il campionato italiano ma sorvoliamo è meglio comunque partiamo subito col campionato tedesco e la schitinazza bayern monaco bocum 1 mainz friburgo 1x ausburg borussia monchenblabach is 2 per i più coraggiosi 2 arminia bielefeld hoffenheim x2 colonia lipsia 2 partite di domenica stoccarla bayern leverkusen x2 borussia dormun unio berlino 1 voosburg eintracht francoforte 1x per i più coraggiosi 1 proseguiamo con la bolletta la schedina scusate la schedina alternativa quindi schedina classica simil totocalcio schedina alternativa bayern monaco bocum over 3 e mezzo mainz friburgo gol ausburg borussia monchenblabach gol arminia bielefeld hoffenheim over 1 e mezzo colonia lipsia over 2 e mezzo stoccarla bayern leverkusen gol borussia dormun unio berlino over 2 e mezzo bosburg eintracht francoforte gol bene ragazzoli detto questo andiamo a vedere il gigione che partita scelto per le bollette allora le partite scelte sono ausburg borussia monchenblabach mainz friburgo colonia lipsia e bosburg eintracht francoforte e partiamo subito con la bolletta delle fisse ausburg borussia monchenblabach 2 mainz friburgo 1 colonia lipsia 2 bosburg eintracht francoforte 1 con 5 euro se ne vincono 58,63 come sempre quando la quota fa libidine metterci una due doppie non è una cattiva idea magari prendendo spunto dalla schedinazza o schedina che dir si voglia proseguiamo con la bollettina numero 2 ausburg borussia monchenblabach multigol ospite 2 4 mainz friburgo multigol casa 1 3 colonia lipsia multigol ospite 2 4 bosburg eintracht francoforte multigol casa 1 3 con 5 euro se ne vincono 24,18 18 18 18 18 vi ricordo qualcosa il 18 a me sì magari anche a voi proseguiamo con la bollettina numero 3 con due opzioni perché vi faccio sempre le opzioni quando è possibile ausburg borussia monchenblabach is 2 più over mainz friburgo 1 x più over colonia lipsia is 2 più over bosburg eintracht francoforte 1 x più over con 5 euro se ne vincono 25,01 opzione 2 o se preferite opzione 1 dopo quella base ausburg borussia monchenblabach x2 più over mainz friburgo 1 x più over colonia lipsia 2 più over colonia lipsia 2 più over colonia lipsia 2 più over bosburg eintracht francoforte 1 x più over con 5 euro se ne vincono 34,70 opzione per i brave heart ausburg borussia monchenblabach 2 più over mainz friburgo 1 x più over colonia lipsia 2 più over bosburg eintracht francoforte 1 x più over con 5 euro se ne vincono 49,06 quindi vi ho dato opzione base cinque volte la posta opzione coraggiosi quasi sette volte la posta opzione libidine brevard quasi dieci volte la posta proseguiamo con la bollettina 4 che a me fa libidine ma mi stoppo un attimo e poi la vediamo bene 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 bollettina 4 ausburg borussia monchenblabach gol casa mails friburgo gol ospite colonia lipsia gol casa bosburg eintracht francoforte gol ospite con 5 euro se ne vincono 15,74 lo so è un po pochino però ripeto è una bolletta che a me fa sempre libidine e che spesso e volentieri mi salva tra virgolette la questione delle scommessine diciamo perché la prendo spesso magari questa la seconda e la quarta a volte le prendo anche tutte e due a volte tre su quattro eccetera sono sempre bollette che regalano gioie poi magari tutte e quattro no però tre su quattro tre su quattro da una parte dall'altra se ve le inserite in maniera furba bene 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 adesso devo fare devo fare il pozzetto della situazione prima ho fatto il classico torniamo al tac tac allora ausburg borussia monchenblabach gol piover tac tac mainz friburgo gol piover tac colonia lipsia gol piover tac bosburg eintracht francoforte gol piover tac avrete già capito che tutti i gol piover sono libidinosi perché sono tutti favoritissimi signori favoritissimi con cinque euro se ne vincono 70 come sempre non vi dico come nel giochino ti piace vincere facile però vedendo l'andazzo della prima partita vedendo un attimino tipo di partite che si andranno a giocare eccetera direi che il profumino di almeno tre golletti e che entrambe le squadre facciano gol in queste quattro partite è piuttosto alto ecco c'è un bel profumo di gol poi naturalmente la solita partita che ti finisce 2 a 0 0 2 e le altre magari 3 a 2 3 a 1 eccetera c'è il rischio c'è sempre però sulla carta queste sono quattro partitelle che potrebbero regalare veramente delle belle gioie proseguiamo con la sesta bollettina e qua c'è un 50 50 diciamo di diciamocelo allora ausburg borussia monschenblabach due più gol mainz friburgo uno più gol colombia lipsia due più gol bosburg entra francoforte uno più gol con due euro se ne vincono 249,86 con 5 euro 624,66 però c'è il pero però però ma ins friburgo l'uno più gol non è favorito c'è una differenza di 0,50 a favore del no gol bosburg ha entra francoforte l'uno più gol non è favorito ma c'è una differenza ridicola di 0,25 a favore del no gol tenetene conto quindi anche lì come vi dico sempre strappolate le partite che vi acchiappano di più le mettete o giocatele magari in singola pagano bene pagano tutte piuttosto bene quindi fate bobis vi devo fare la bolletta alternativa due e due due col gol due col no gol quindi ausburg borussia monschenblabach lasciamo il due più gol ma ins friburgo mettiamo l'uno più uno gol colonia lipsia mettiamo il due più gol e in volsburg entra francoforte uno più uno gol anche se questa sinceramente mi sembra la partita più di tutte che dovrebbe regalare gol e spettacolo perché si affrontano due squadre toste forti e che sono abituate a fare anche tanti gol quindi però loro dicono che è favorito il no gol facciamo il no gol in questo caso con due euro se ne vincono 199,25 con 5 euro 498,14 bene ragazzoli io vi saluto vi ringrazio vado a preparare anche il campionato francese in modo che così nella notte sono pronti tutti poi vi farò Don Gigi Don Carubino marcatori tiratori e poi finalmente me ne andrò a letto che domani c'è la corsa perché devo partire subito con Interlive prepararmi uscire andare a veder la partita tornare a casa mangiare farvi il post partita anzi prima di mangiare il post partita vedermi la partita del sabato sera anzi mi vedo la partita del sabato sera dopo mangerò e quindi è così va così ma comunque speriamo in bene perché il campionato tedesco è un campionato che a me proprio piace piace perché fanno tanti gol piace per tanti motivi e quindi speriamo che vi regali gioie la mia bolle le mie bollette eccetera sappiate scegliere giusto e incassare tanti bei soldini ciao ah naturalmente ve lo chiedo ancora per chi entra per la prima volta se mi fa il favore semplicemente di iscriversi non c'è bisogno che attivi la campanella eccetera basta che vi iscrivete e mi fate arrivare a questi benedetti mille follower che veramente è è un istilicidio lento 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 io mi sto dando parecchio da fare se inizierò questa cosa non diciamo nulla non diciamo nulla vedremo il futuro è un'ipotesi intanto io i miei video ve li continuo a fare ciao